Il ragazzo che vedrete all'interno di questa intervista è un giovane trader che a soli 20 anni è riuscito a trasformare la sua passione per la programmazione e il trading in una carriera straordinaria riuscendo a lavorare con dei fondi di investimento da milioni di euro Stiamo su un vago su più di 10 milioni all'incirca 10 milioni Ad oggi all'incirca Attraverso il trading algoritmico, un mondo molto affascinante e spesso poco conosciuto in Italia Un universo in cui l'intelligenza artificiale e la matematica avanzata si fondono per creare strategie finanziarie automatizzate E quindi il trading attraverso l'ausilio di Expert Advisor Essendo un tema molto sottovalutato in Italia ma con un potenziale davvero enorme e all'interno di questo video lo capirete Ho deciso di intervistare Luigi Mattei che a parer mio a soli 20 anni sta riuscendo a creare un qualcosa di assurdo all'interno di questo settore Quindi ragazzi mi raccomando mettetevi comodi, godetevi questa intervista Soprattutto per la marea di informazioni che non potrete trovare online di altissimo valore che Luigi ha deciso di condividere E soprattutto per supportare il mio lavoro in modo completamente gratuito vi chiedo di lasciare solamente un like e iscrivervi al canale attivando la campanellina se ancora non l'avete fatto Ciao Luigi, innanzitutto ti do il benvenuto all'interno del mio canale Ci conosciamo già da diverso tempo E quindi vorrei affrontare all'interno di questo video il discorso del trading algoritmico Perché comunque è un argomento di cui non se ne sente tanto parlare in Italia Quindi poiché tu ci lavori già da diverso tempo, hai i tuoi bot Voglio che mi racconti un po' la tua esperienza Quindi partiamo prima dall'inizio Chi sei, come hai conosciuto questo mondo E soprattutto come sei arrivato a lavorare anche con fondi di investimento Certo, allora innanzitutto grazie mille Luca per l'invito all'interno del tuo canale Grazie mille a tutte quante le persone che appunto stanno guardando questo video Dunque io sono Luigi Mattei, ho 21 anni E ho 8 anni di esperienza all'interno del settore del trading e della programmazione Ho iniziato veramente da piccolo un po' per passione Perché appunto passavo tantissimo tempo davanti al computer guardando argomenti di qualsiasi tipo Magari da come utilizzare Excel Ma proprio sono un tipo molto curioso E quindi mi appassionava appunto informarmi Da lì un giorno ho detto a 12 anni circa Proviamo a monetizzare questo tempo Proviamo a sfruttarlo al meglio E banalmente uno alla classica ricerca che fa è quella come guadagnare online E da lì ho conosciuto il mondo del trading Che era visto come il mondo che ti regala soldi, soldi magici eccetera eccetera Quando in realtà poi con il tempo ho scoperto che non è così Cosa mi ha fatto appassionare a questo settore? Il fatto delle dinamiche che ci sono dietro ai mercati Perché comunque se una cosa, se all'interno del mondo sta succedendo un evento X All'interno dei mercati questa cosa comunque viene fra virgolette rispecchiata Succede questo perché c'è questo C'è quest'altra cosa perché c'è questo e così via E questo concetto mi ha sempre un poco affascinato e appassionato Ragion per cui ho cercato di sfruttarlo e di studiarlo quanto più tempo possibile A 16 anni purtroppo ho avuto un incidente in moto Da lì sono stato circa 6 mesi a letto E ho detto anziché buttare questo tempo cerchiamolo di sfruttare nel migliore dei modi In che modo appunto studiando Quando mi sono ripreso purtroppo c'è stata la pandemia, il covid E quindi lì altri mesi in casa, altri mesi in casa, altri mesi in casa E quindi ho detto vabbè Di questo qua continuavo a studiare, continuavo a far pratica con i conti demo Che per quella che è la mia esperienza mi hanno realmente salvato Però tu hai iniziato prima con il discrezionale Sì io ho fatto inizialmente il discrezionale Perché appunto studiavo quindi analisi tecnica Poi ho implementato la volumetrica e infine la ciclica Io il mio primo conto trading è stato su un conto sulle opzioni binarie Che sono anche illegali esattamente Però ti dico perché ho iniziato con quelle Un bambino mi sento di dire di 12-13 anni Non si può permettere di mettere magari 500 euro, 1000 euro all'interno del broker Io non lavoravo ovviamente, andavo a scuola E quindi che cosa avevo? Avevo 10 euro barra 20 euro di paghetta di genitori settimanali Magari anziché andermi a mangiare la pizza con l'amico Dicevo vabbè mangio a casa, mi prendevo i soldi E poi successivamente li investivo E là non era un investimento, era un gioco Era troppo bello magari quando tu dicevi Sono riuscito a trovare il modo per battere il mercato Dopo un po' ti prendevi la mazzata Però comunque anche lì ho fatto tanta esperienza Successivamente dopo aver fatto questa esperienza con le opzioni binarie Ho conosciuto appunto i CFD Quindi magari che cos'è un conto demo E che vantaggio potevo ottenere da quel conto demo E appunto lì non avevo i soldi per poterli investire E quindi sono partito con questa tipologia di conti È stato molto difficile perché quando uno utilizza un conto demo Un po' tende a eliminare le emotività Tende a eliminare le emozioni E questo è un grandissimo contro Perché poi tu quando magari vai ad aprire un'operazione all'interno del mercato Hai quella paura Ma da quando mi sta andando il prezzo contro Che magari non hai all'interno del conto demo Succede una volta, succede due volte La terza volta Non con i conti reali Succedeva sempre con il conto demo Che magari mi rendevo conto sotto la doccia Ci pensavo Dicevo cavolo ma io non ho operato Sai quando la strategia non va bene La sera prima di mettermi a letto Non ho operato in maniera corretta Questo conto lo devo buttare E dopo un po' dopo essermi Dopo aver consapevolizzato questo aspetto Ho detto il conto demo Lo devi utilizzare come se fosse un conto reale Stop Da lì ho cercato di fare sempre attenzione Iniziato a fare un journal di trading Quindi magari segnarmi tutte quante le operazioni su Notion Io utilizzo tantissimo Notion, Excel e tutto E ho detto lo devi utilizzare come se fosse un conto reale E quindi da lì ho iniziato a fare tanta pratica Fino a crearmi una piccola mia strategia Successivamente io sono anche un periodo informatico Quindi ho studiato informatica alle superiori E da lì avevo una base di programmazione Che me la portavo già in passato Magari qualche programma in Python C Sharp, C++ e tutto quanto Sapevo già programmare E poi comunque con la scuola Ho avuto quelle conoscenze di studiare Quelle che sono le documentazioni Quindi tu hai una documentazione Che serve come il nostro dizionario Il vocabolario Dove hai tutti quanti i vocaboli appunto E è la stessa cosa fra virgolette con l'informatica Quindi tu magari una volta che sai leggere la documentazione Potresti passare su più linguaggi Non è così semplice Però l'ho minimizzata molto E da lì ho detto Cavolo ma poi che andavo ancora a scuola Ho detto fammi unire queste mie due grandi passioni Programmazione e trading Fammi vedere se posso riuscire a Se le riesco a far concidere E da lì appunto ho conosciuto il trading sistematico L'algo trading E il trading algoritmico Che ho detto potrebbe essere molto interessante Perché io mi rendevo conto che magari andavo a scuola E quindi non riuscivo a stare davanti ai grafici Il che un po' era frustrante Perché non riuscivo realmente Ad avere un edge statistico Non sul backtest ma sul conto reale Perché il backtest specialmente se discrezionale Può avere comunque delle differenze rispetto al back Quando uno ha preoperazioni in reale E quindi dicevo Cavolo ma io mi sto mangiando tantissime opportunità Mi sto mangiando Non riesco ad avere una statistica ben dettagliata Non va bene E quindi ho detto Cavolo ma anche il semplice backtest Automatizzandolo Io riesco ad avere realmente un edge statistico Privo di emozioni E specialmente oggettivo Facciamo un esempio Come si è comportato Euro-dollaro Dopo che sulla candela A un'ora Ha rotto il massimo Come si è comportato il prezzo Tu ti puoi creare uno script Che magari devi apprendere dati Dal 2004 A 2005 Fino al 2023 22 E ti vedi Euro-dollaro Come si è comportato Quando è successo questo E tu riesci a scomporre Fra virgolette Il mercato Riesci a dire Cavolo ma Posso avere tantissimi dati Posso approfondire Posso creare delle strategie Posso avere un edge statistico Favorevole Anche nella strategia discrezionale E da lì Piano piano Ho sempre cercato Di approfondire questo settore Non mi sono mai limitato Fra virgolette Nello studio Non ho avuto mai fretta Di iniziare a farti Infortunatamente Ho avuto sempre la mia famiglia dietro Che mi ha sostenuto Per quanto riguarda L'aspetto economico Quindi se dovevo andare A fare un'uscita Non mi faceva mancare Il 10 euro 20 euro Il 50 euro Per fare l'uscita Ringraziamo a Dio E quindi non avevo fretta Di dover far soldi Ho detto Io non voglio buttare soldi Perché appunto Non è che tu vuoi buttare soldi Non li voglio buttare Mi prendo tutto quanto Il tempo per studiare Poi un giorno Quando avrò Un edge statistico Favorevole Io lì Andrò ad operare All'interno del mercato E' un po' quello che E' stato fatto All'interno di questo settore Qui è nato tutto Con la passione Dal discrezionale Al trading algoritmico Ok Quindi poi hai iniziato A creare diciamo Le tue strategie Attraverso Gli expert advisor Giusto? Esattamente Corretto Il processo è stato un po' diverso Io avevo questa mia strategia Discrezionale Che Io ho fatto questo passaggio qui Ho iniziato con il forex Successivamente Mi sono spostato sulle cripto Dove ho avuto un'esperienza All'interno delle cripto Successivamente Ho iniziato ad avere contatti Perché ho ottenuto Dei buoni risultati Sulle cripto Ho iniziato ad avere contatti Con fondi di investimento Qualche consulente finanziario Che mi scriveva Mi riusciva a contattare E però purtroppo Le cripto E il mercato delle cripto Per quella che è la mia visione E' soggettiva Puramente soggettiva Condivisibile o meno E' in continua evoluzione Tende sempre ad evolversi Quindi tu Magari se prendi bitcoin Io ancora tutt'oggi Provo dei concetti di cripto Che magari utilizzavo Uno, due, tre anni fa Li provo adesso Non funzionano più Semplicemente perché E' cambiato Sta cambiando Esattamente Entrano sempre più capitali Viene sempre più utilizzato Quindi tu non riesci Ad avere realmente Un agio statistico E quindi ho cercato Di spostarmi su un mercato Un poco più Non dico sicuro Un poco più safe Ecco questo è il termine corretto Ma mi sentirei di dire Un poco più solito Che rispetto a quello delle cripto Dove ho più dati Ok Ovvero quello del forex E quindi sono tornato all'interno del forex E il mio primo approccio È stato quello di dire Prendo la mia strategia discrezionale Quindi utilizzata da indicatori Perché come dicevo Utilizzo tre tipologie di analisi Successivamente Prendo questa strategia E cerco di creare un software Utilizzando questi concetti Purtroppo anche lì Ho fatto una nuova scoperta Fra virgolette Ovvero quello di dire Consapevolizzare un altro aspetto Quello di dire Non tutte le strategie Possono essere automatizzate Semplicemente Specialmente quelle che utilizzano Tanti indicatori Specialmente le strategie discrezionali Semplicemente perché L'indicatore Che cos'è che fa? Ti dà un'indicazione Quell'indicazione Deve essere contestualizzata E purtroppo Far contestualizzare un software Come andrebbe a contestualizzare Una mente umana È veramente difficile Se non impossibile Ora magari Con l'intelligenza artificiale Di cui io non ho conoscenze Quindi non te lo posso Non posso parlare In maniera molto tecnica Di questo Perché non è un qualcosa Che utilizzo Ne ho avuto ancora modo Di informarmi Utilizzare eccetera eccetera Però magari potenzialmente Avendo comunque Macchine giuste Potremmo arrivare a quel livello Ma magari Io ad oggi Non sono ancora riuscito Ad arrivare Ad ottenere Quella legge statistica Che magari ricerco Con gli indicatori Nella strategia discrezionale Utilizzando magari Gli indicatori E quindi diciamo Che ho cercato Di utilizzare Un approccio Completamente diverso Basandomi tanto Sui dati Utilizzare delle strategie Molto semplici Quindi magari Non troppo complesse Utilizzando 300.000 indicatori 300.000 pattern Anche perché penso Che comunque Da come Perché comunque È un argomento Che ho studiato Anche io Ultimamente Quando utilizzi Più indicatori C'è anche il rischio Di overfitting Giusto? Esattamente Molti indicatori Bravissimo Soprattutto Questo può succedere Sia nell'iscrezionale Ma specialmente Nel settore Del trading algoritmico Perché Tu Il rischio Più grande Che si corre Nel senso Tu dici Ecco il problema Del back test Quando ti dicevo Nella fase iniziale Dell'intervista Dicevo La differenza Fra fare Back test Discrezionale Su dati passati Mentre tu Lo stai testando In real Perché Il problema Del back test È che tu Vedi che magari La tua strategia Facciamo un esempio Pratico Così magari Ci possono capire La maggior parte Delle persone Facciamo L'indicatore Più utilizzato Può essere L'RSI Quindi noi Magari Facciamo una strategia Su euro dollaro Time frame un'ora Quando L'RSI Supera il 14 Vendi Quando scende Scusami Quando supera il 70 20 Quando scende Sotto al 14 Compra Ok Quindi una semplice Strategia In range Che cosa è che succede Che tu magari Inizi a dire Cavolo però Mi è sceso sotto al 14 Io ho comprato Il prezzo Ha continuato a scendere Fammi piazzare La media mobile Tu piazzi la media mobile Dici Ah cavolo Io due segnali Negativi Gli sono riuscito A evitare Poi successivamente Dici va Fammi utilizzare L'Ishimoku Quando L'Ishimoku È rossa Fai E ti inizi a creare Una strategia su di questo È corretto Solamente il criterio Qual è il rischio Che tu corri Che magari Perché tu ti stai Costruendo la strategia Su quelli che sono I pattern passati Guardandoli Con il passare del tempo Rischi di ottimizzare La strategia Solamente su quel periodo Storico Che tu vai appunto A backtestare Il che cosa è che succede Che magari La metti su real Ti può andare bene Anche una settimana Perché tanto ti va bene Una settimana Due settimane Un mese Due mesi Esagerando Però prima o poi Il mercato Poiché è ciclico Fra virgolette Quindi tende a rispettare Determinati cicli Per quella che sembra Che è la mia visione I volumi Ci sono dei periodi Dove ci sono più volumi Dei periodi dove ci sono Meno volumi Quando il mercato Affronta una nuova fase Differente rispetto Alla fase Che tu sei andato A backtestare Lì la strategia Inizia a diventare perdente Perché tu appunto Hai creato Questo software Questa eventuale strategia Su un periodo di mercato Dove c'erano 8 volumi C'era una stagionalità X C'era un ciclo Y E c'erano determinati Indicatori Che funzionavano bene Ma è vero che Tutte le cose Risultati passati Ovviamente non potranno Mai garantire risultati futuri Però se tu riesci A avere un edge statistico Come dicevamo sempre E riesci Fra virgolette Ad adattarlo Perché io sono anche Della visione Che non esiste un bot Che tu lo metti lì E lavora No Specialmente quelli Che magari uno scarica online Cioè no Se tu devi fare un software Basandoti su dati Indicatori Tutto l'approccio che vuoi tu Però il mercato È inevitabile che cambia E quindi tu devi stare A passo con il mercato Non è che il bot Almeno che non hai Machine learning Quindi che magari Si adatta Alle condizioni di mercato Tu devi essere bravo A riprogrammarlo Prendere quel periodo storico Capire qual è stata La differenza rispetto al mercato Devi fare tutti questi test Che purtroppo il software Da solo Non li può fare Perché appunto Il mercato affronta Vari fasi E questo è molto importante Per questo mi sentirei di dire Che molti software Non vanno bene Non puoi avere un software Che ti va bene Per un anno Due anni Tre anni Senza intervenire Senza magari avere Un valore x Che dici Se questo valore Mi cambia di x punti Di y punti Scusa io Devo intervenire Devo fare un aggiornamento Questo non può succedere Perché appunto Il mercato è diverso Anno per anno Ciclo per ciclo Eccetera eccetera Capito Interrompo un attimo Il contenuto Per parlarvi Dello sponsor Di questo video Ossia Bitpanda E grazie a Bitpanda In questo momento Ho messo una promozione Per voi incredibile Infatti riceverete 50 euro Di bonus Di benvenuto Che potete utilizzare In piattaforma Investendo in criptovalute In azioni E tanto altro Qui troverete Tutte le regole Vi lascio il link In descrizione Bitpanda È una delle piattaforme Più utilizzate Per poter andare Ad acquistare E vendere Criptovalute E non Infatti possiamo andare Ad investire Anche in azioni Etf Indici Materie prime E tanto tanto altro Abbiamo anche La possibilità Di poter andare Ad investire Nel settore Delle criptovalute Con la nostra Carta prepagata E abbiamo anche La carta prepagata Di Bitpanda Che ci permette Di spendere I nostri profitti Quindi ringrazio Bitpanda Per aver sponsorizzato Questo video E troverete Il primo link In descrizione Grazie al quale Riceverete 50 dollari Di bonus Gratuitamente Ritorniamo All'intervista E per quanto riguarda Proprio la questione Competenza Di programmare Un bot Secondo te Cioè una persona Cosa dovrebbe fare Per imparare Eh questa è una bellissima domanda E scusami Soprattutto Quanto tempo ci vuole Per imparare La competenza Perché comunque Alla fine si tratta Di saper programmare Programmare un bot Non è come magari Parlare l'italiano Dove magari tu Non sei esperto E dici Sbagli il verbo Avrei avessi Tutte queste cose qua E sbagliato A livello Grammaticale Però comunque il significato Lo capisci Non so Ho fatto un esempio Molto drastico Drammatico E tutto Però è per far capire Il significato Di quello che volevo Del concetto Programmare Significa Avere innanzitutto Uno schema Quindi la mente Fra virgolette Da programmatore Avere la mente Da programmatore E avere una mente Molto analitica Il programmatore Io sono dell'idea Che risolve Il problema Deve risolvere Un problema Cosa significa Risolvere un problema Innanzitutto Saperlo scomporre Il programmatore Non è che tu Vedi il problema Ok lo devo Risolvere No Il programmatore Quando vede un problema Ne vede altri dieci Che possono esserci attorno Quindi già avere quella mentalità Già avere quella mente Già è un qualcosa Che ti può dire Posso programmare Posso non programmare È un concetto Molto fine Forse è anche molto difficile Da spiegare Però È avere una mente Analitica Già questo qua Già ti fa tantissimo Poi ci vuole tantissima pratica Non è un qualcosa Che tu studi Metti in pratica No Saper leggere Una documentazione Sembra una banalità Come leggere Come dicevamo prima Un foglio Un foglio di testo E tutto No È molto difficile Perché Non puoi mettere insieme Tutti i concetti Ogni concetto Cioè banalmente Anche la ricerca di un errore All'interno di un codice Gli errori più stupidi Sono magari Uno si dimentica Un punto e virgola Uno magari si dimentica Una parentesi Sono degli errori stupidi Che i programmatori esperti Ci perdono settimane Prima di trovare Quell'errore E tu immagini una persona Che magari dice Io oggi voglio iniziare A fare trading Voglio programmare Il mio primo software Magari quella persona Ha un errore Che però non capisce Dov'è Si impalla Perché non riesce Mai a trovarlo Ci sono dei sistemi Che magari si trovano Si chiamano debug Il debug Che cos'è che significa Tu prendi uno spezzone di codice Fai Diciamo E seguire solamente Quello spezzone E vedi il bot Dove si blocca Oppure che risultato dirà Magari non hai Una variabile Ti deve uscire con uno Ti esce con due Tu riesci a capire Facendo questo debug Perché ti esce uno Dov'è l'errore Però questo qua Non è una cosa Che tu fai così Cioè ci sono voluti anni Per poterlo imparare Ancora oggi sono Sto giorni 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 Solamente per trovare un errore Che poi magari È una banalità Magari un anziché Mettere un maggiore Mette un minore Oppure mette un uguale Tu stai veramente Tanti giorni a trovare Ma secondo te ChatGPT no? Non ti dà una mano Non dico Cioè ti dà comunque Una mano Per trovare degli errori Oppure Allora Per quella che è La mia esperienza Anche questa volta qui Soggettiva Condivisibile o meno Secondo me Non siamo ancora Al punto che ChatGPT Ci possa programmare Un software O trovare un errore Ci sono delle volte Dove io prendo ChatGPT Mi esce un errore Gli mando il codice E lui Gli dico Guarda ho questo codice Ho questo errore Cerca di risolverlo Ci sono due problematiche Il primo è che Tu sei limitato Se hai un codice Di 10.000 righe Ti faccio un esempio 15.000 righe Che sono comunque Dei codici complessi Uno non riesce A leggertelo tutto Due non ti trova l'errore Anziché magari Ti dice Ok Questo qua è l'errore Lo individua Ti dice Cambia questa parte di codice Con quest'altro codice qua Tu vai ad eseguire Ti esce un altro errore ancora Quindi sei limitato Ma soprattutto In futuro sicuramente sì Io quello per cui Utilizzo ChatGPT Sono degli if If Switch Che cosa sono Gli if sono semplicemente Se Luca Oggi ha mangiato Fai questo Altrimenti Fai quest'altro Questo qua è un if Spiegato proprio in maniera Molto semplice Però ad arrivare a Programmare un software La vedo ancora Molto lunga come strada Molto difficile Secondo te qual è il vantaggio Nell'avere Nell'andare a fare Trading algoritmico Al posto di andarlo A fare indiscrezionale Anzi voglio sapere Sia il vantaggio Che lo svantaggio Ovviamente Allora Allora Il vantaggio L'oggettività L'emotività Cioè E poi non stai tu davanti Ai grafici Effettivamente Allora io Sto qui a fare Questa intervista Ho i software Che Vuoi o non vuoi Anche se non mi stanno Chiudendo delle operazioni Ma comunque Mi stanno lavorando Quindi tu hai Un'oggettività Un mercato Unica Puoi dedicarti Ad altri progetti Puoi sviluppare Nuove cose Puoi studiare E tutto E' normale Che ci devi mettere Un sacco di tempo Per poterlo fare Quindi tu impieghi Magari sei mesi Un anno A sviluppare una strategia Che poi magari Non ti funziona neanche Quante volte è successo Che magari Avevo un'idea in mente Sono stato Tre, quattro, sei mesi A svilupparla Tu la metti a fare Il backtest Funziona Non funziona Cioè funziona male E tu che fai? Ovviamente devi buttare Quel lavoro Che hai fatto in sei mesi Quindi tu lo devi Sempre preventivare E' una cosa giusta Il contro sta nel fatto Che tu potenzialmente Potresti riscontrare Tantissimi errori Succede delle volte Ora mi sento di dire No, non mi succede più Però può succedere Che ci sono dei bug All'interno del codice Ci sono delle volte Dove magari Era un poco inesperto Che cos'è che succede? Tu sviluppi un software Dopodiché lo metti Subito all'interno Di un conto real Lo metti a lavorare Lo metti a far lavorare Oppure magari ci fai fare Una settimana Un mese di demo Giusto per vedere come va E poi lo metti su real Per quella che è La mia esperienza E' sbagliato Semplicemente perché Se c'è un bug All'interno del codice Tu lo puoi vedere Dal backtest Ma magari alcuni dati Il bot Li legge in maniera diversa Dal backtest Al real Ok? E io che ne so Se mi apre Delle size Sballate Mentre sto su real Ci sono state delle volte Te lo giuro Questo qua Mi succede spesso con lo stop loss Infatti Cioè mi succedeva spesso Con lo stop loss Infatti ho fatto uno studio Molto approfondito di questo Sullo stop loss Come evitare i scenari peggiori Succedono delle volte Perché i software Lavorano sulle VPS Che sono dei computer virtuali Banalmente Che considerate questo Per far lavorare un software H24 Tu dovresti avere un computer Sempre acceso Non dovrebbe mai spegnersi Non dovrebbe mai Perdere la connessione È una cosa molto difficile E quindi si utilizzano Queste VPS Che sono dei computer virtuali Spiegate in maniera molto semplice Che hanno magari Una connessione dedicata La corrente sempre accesa E tutto Qual è lo scenario peggiore? Perché ho detto Vabbè c'è una VPS Ma ci fa posto In realtà no Può succedere Crash al metatrader Si scollega l'account Un aggiornamento di Windows Capisci bene che tu Fin quando hai Il bot che Fra virgolette Lavora Sta bene Non utilizza stop loss A te non ti interessa Sai che rischi Tutto quanto il capitale Però io utilizzo lo stop loss Quindi che cos'è che succede Nel caso in cui Io avessi all'interno Della stessa VPS Sia il software operativo Sia comunque Il software dello stop loss A me se mi crasha la VPS Io sto rischiando Tutto il mio capitale Capisci bene che non è la cosa mia E quindi ho detto Fammi studiare un po' Come posso migliorare Questa situazione qui Ed oggi ho Diciamo ho avuto Questo concetto Perché ci sono alcuni software Che non puoi utilizzare Uno stop loss All'interno della macchina Ok anche qui Dipende tutto dal broker Dipende da una marea Di fattori Dalla strategia Ci sono alcune strategie Dove magari tu Per calcolarti Dove posizionare lo stop loss Specialmente se utilizzi Una mediazione Oppure un hedging È molto difficile farlo Proprio a livello matematico Ok Fai di calcolare lo stop loss Se apri questa operazione Fagliela abbassare Fagliela È molto difficile Quindi magari tu non hai Già le competenze Per poter piazzare Uno stop loss In macchina Ok Infatti per questo concetto Quindi rendere uno stop loss dinamico Io Saranno 6-8 mesi Che ci sto lavorando E lo sto studiando In maniera corretta Però io prima di allora A parte che ho 21 anni Ho tanta esperienza Però sto studiando È ancora un mondo Da conoscere E prima Come facevo Come faccio ancora tutt'oggi Semplicemente Ho una VPS All'interno di questa VPS Ho il codice operativo Io vado a prendere Sempre altre 3 VPS Semplicemente perché All'interno di queste 3 VPS Non vado a posizionare Il software operativo Ma vado a mettere 3 software diversi Che avranno la funzione Di prendere stop loss Mi crasha un metatrader Mi crasha una VPS Io non sto scoperto Io sto scoperto Con il codice operativo Il bot non ha aperto operazioni Non ho guadagnato Domani è un altro giorno Ma se mi dovesse crashare Lo stop loss A me neanche lì è un problema Perché ho altre 3 VPS Che mi funzionano Solamente per prendere Lo stop loss Mi crasha una VPS Dello stop loss Ne ho altre 2 Nello scenario peggiore Mi devono crashare 4 VPS Può succedere Assolutamente sì Però cerco di abbassare Lo scenario peggiore Con una probabilità Quanto più bassa possibile Un po' quello che si fa All'interno del mercato Quando uno parla di stop loss Deve abbassare Quanto più possibile La probabilità Di prendere stop loss Poi anche lì L'unica strategia Che non prende stop loss È quello che non ce l'ha E dunque invece Per quanto riguarda Lo svantaggio del bot Sta proprio nel fatto Questo qua Degli errori di programmazione Che ci possono essere Ma specialmente Se tu non ti riesci a creare Un piano operativo Back testandolo Quindi magari utilizzando Anche il tuo Diciamo intervento manuale All'interno del conto Tu non riesci ad avere Anche lì una statistica Ben dettagliata Poi non hai Il controllo del conto Oppure magari Non sai In base al software Quando può aprire Se sta sbagliando qualcosa Se c'è un bug Se non riesci a backtestare Se non riesci a fare Un backtest corretto Se non hai le conoscenze corrette E giusto E più che altro Non conosci neanche tu Il software realmente Sembra Cioè ti pensi di conoscerlo Però poi lo metti sul campo Non lo conosci E questo qua Viene tutto dall'esperienza Io per questo dico sempre Non abbiate fretta Di fare soldi Cioè Se voi lavorate bene Fare soldi È l'ultimo dei pensieri È una conseguenza Fare soldi È una conseguenza Di un lavoro ben svolto Fare soldi Con troppa velocità Quando uno vuole fare soldi Con una velocità Immediata Vuole soldi nell'immediato Io dico sempre questo Ricordati Che è più facile Perdere soldi nell'immediato Aumentando il rischio Rispetto a farli Perché tu realmente Non hai la praticità Per poter fare Questa cosa qui Allora tu ad oggi Quanti bot attivi hai Cioè Quanti expert advisor hai E soprattutto Quante strategie hai creato Prima di Diciamo Trovare quelli Profittevoli Allora Per quanto riguarda Il mio portafoglio Sul forex Ad oggi principalmente Ce ne sono circa due Sto cercando di creare la terza Invece per quanto riguarda Altre strategie Dove magari Per qualche cliente E tutto quanto Sono forse Sotto un centinaio Mi sento di dire Non in maniera esagerata Invece che ho sviluppato io E che ho scartato Veramente tantissime Anche perché io Quello che Lavoro tramite libreria Quindi quello che faccio Semplicemente il mio processo operativo È quello di Creare tanti codici Prendere magari La parte buona Da ciascuno E magari cercare Di utilizzarlo nel tempo E questo mi permette Non solo di ottimizzare i tempi Ma specialmente Di crescere E di migliorare tantissimo Allora Tu principalmente Quando vai a creare Un expert advisor Vai a prendere in considerazione Solamente degli indicatori Esempio Le medie mobili E l'RSI Oppure prendi in considerazione Anche altri parametri Non c'è una risposta Singolare Quindi Si funziona No non funziona Dipende tutto dalla strategia Ok Io personalmente Anche lì Dipende dalla strategia Che edge Mi dà Un determinato bot Ho dei bot Ho fatto dei test Con dei software Che banalmente Andavano ad utilizzare Semplicemente Le bande di Bollinger E quindi ho avuto Un mio edge statistico Oppure magari Andavano ad utilizzare Semplicemente La media mobile Andando a giocare Un po' sui periodi Andando magari A prendere qualche Dato Sulle candele Oppure magari Andando a prendere Qualche dato volumetrico Comunque uno cerca Sempre di ottimizzare Tenendo sempre in considerazione Il fatto di non creare La strategia In base a quello che vedi Ok Non è che Prendo le bande di Bollinger Vedo che magari Posso aggiungere questo Quello là non va affatto Assolutamente Purtroppo non c'è la formula magica Che dici questo è corretto Questo è giusto Se funziona All'interno del mercato E ti porta risultato Esempio Oppure una strategia Ad esempio casuale Potrebbe andare Sì Banalmente sì Ci sono stati dei clienti Che magari Succede Che dei clienti Mi dicono Guarda io sto testando Questo software Mi piace L'ho testato Per un tot di tempo Ora per esempio Non è andato bene Mi piacerebbe Fra virgolette Provare a migliorarlo Perché ho pensato Che questo criterio Potrebbe starci meglio Però non lo so implementare Quindi magari vengono Ci mettiamo insieme Ci mettiamo a tavolino E cerchiamo appunto Di migliorare l'operatività Su questo Io sono sempre D'idea che il bot Più semplice è Meglio è Perché se riesce Ad essere molto semplice Innanzitutto Tu sai dove intervenire La possibilità E la probabilità Di sbagliare È inferiore Perché tu Se utilizzi 10 indicatori Oppure utilizzi 10 pattern Oppure utilizzi 10 visioni diverse Tu hai sempre più probabilità Che vai a fare un errore All'interno del codice Quindi la semplicità È sempre la miglior cosa Però ci sono delle strategie Dove magari Devono essere per forza Più complesse Il risultato Non significa Che sia migliore Oppure peggiore Rispetto alle strategie Nel trading Non c'è la formula magica Anche lì La martingala Per esempio Che viene tantissimo criticata L'usare lo stop loss Non usare lo stop loss Il bello del trading È che tu La martingala Su una tua strategia Può essere perdente Su una mia strategia Dimostrandolo sul campo Potenzialmente Potrebbe funzionare Addirittura meglio Rispetto al moltiplicatore 1 1,2 1,3 E così via Però come fai a dire È meglio o peggio Dimostrandolo Facendo dei dati Facendo dei backtest Attenzione Non significa che Io prendo una strategia Metto il moltiplicatore 2 E dico La strategia funziona bene No Perché devi essere cosciente Che tu potenzialmente Ti stai andando a disporre di più Anche lì Ti stai andando a disporre di più In base a cosa In base a quale strategia Se riesci a dimostrare sul campo Che la tua strategia Performa meglio Con il moltiplicatore 2 Rispetto al moltiplicatore 1 Funziona Ora se puoi farmi un esempio Supponiamo tu adesso Devi programmare un software Quali parametri Prenderesti in considerazione Perché io ti faccio un esempio Io ad esempio la mia strategia discrezionale Che so che magari Non potrebbe essere Automatizzata Però vorrei creare Un qualcosa di automatizzato Cosa prenderesti in considerazione Cioè cosa dovrei prendere In considerazione Allora io banalmente Quello che faccio sempre Costantemente Quando nascono le nuove operatività Sta semplicemente Nell'osservare il mercato E fare i test Che ti dicevo prima Quindi magari Euro, dollaro, RSI Sale, scena Ovviamente non questa tipologia Di test qua Però magari Vedere come possono funzionare Perché io personalmente Sono un grande fan Degli indicatori personalizzati Quindi magari io Creo indicatori Che poi magari Li uso Oppure non li uso Sempre li creo Perché potenzialmente Mi possono portare un edge Che con il passare del tempo Posso migliorare Quell'indicatore Posso crearmi Una formula matematica Che magari Può performare bene Quindi io Lo faccio tanto Io quello che guardo È tanto il mercato L'osservo E vedo Se potenzialmente Potrei trovare Un pattern interessante Magari vedo che Su euro, dollaro Dopo tre candele rialziste Fa una candela ribassista Lo vedo Prendo un campionamento Dati di dieci volte Quindi vedo Questo evento dieci volte E vedo come si è comportato Se in questi dieci volte Magari cinque, sei volte Si è comportato bene E mi ha dato ragione Non ci metto niente Prendo Scrivo il codice E vado a fare il backtest Per quella che è la mia visione Io utilizzo sempre Un arco temporale Che va dal 2018 Fare il backtest Innanzitutto Utilizzo MetaTrader 5 Non utilizzo MetaTrader 4 Perché non hai La possibilità Di fare il backtest Sui tick di mercato E questo cosa comporta? Che non sei sensibile A spread Swap Slippage Commissioni Che comunque Modificare la statistica Completamente E quindi tramite MetaTrader 5 Io ho questi dati Ma specialmente Il data feed A cui io faccio riferimento Io utilizzo il data feed Del broker Su cui lavoro E quindi lì Ho la certezza Fra virgolette Che quei dati Sono buoni E soprattutto Che quando metto Quel software A mercato Il software È stato progettato Utilizzando Quei dati passati Di quel determinato broker Quindi a livello Di attendibilità Fra virgolette Vi sento di dire Che comunque È massima Poi tutti quanti I miei software Fanno sempre Innanzitutto Un backtest Dal 2018 All'anno corrente Sei mesi in demo E poi sei mesi in reale I sei mesi in demo Per capire se ho fatto Qualche errore All'interno del codice I sei mesi in reale Per capire come si comporta Il software È così Io quello che vedo Semplicemente Sono dei pattern Li guardo Li osservo Prendo un campionamento Dato di 10 volte Se si comporta bene Me lo segno Se si comporta male Amen Prima di passare Al discorso Fondi di investimento E come sei riuscito Comunque a collaborare Con loro Secondo te Adesso Un'opinione sincera È meglio Il trading discrezionale O con gli algoritmi Algoritmico Allora andiamo ad analizzare Facciamo un'analisi Ora anche tu fai trading E molto spesso Anche tu all'interno dei video Dici che anche quando Vai a fare il backtest Oppure quando apri un'operazione Hai sempre quella paura Quella emotività Che ti entra in gioco Tu potrai essere Il trader più forte del mondo Ma se hai una giornata storta Anche un evento esterno Tu quell'evento esterno Lo riporti All'interno della tua operatività Quindi che cosa che fai? Non rispetti la strategia Non rispetti la strategia Il tuo edge È abbassato Specialmente se tu Gestisci i tuoi fondi E il trading diventa La tua fonte di rendito Di reddito principale Non riesci ad essere lucido Perché tu sai che Se non chiudi operazioni Se non fai profitto Quel mese Non guadagni E questo è un grandissimo rischio Invece tu tramite software Innanzitutto tu riesci ad avere Un backtest Oggettivo di quello Che può essere la tua operatività Ma soprattutto Riesce ad abbattere Quelle emotività Il bot È programmato Che dice Se succede x Fa y Se succede z Fa q Non puoi sbagliare E non è paura tipo Di non avere il controllo Esempio È una paura mia Magari se avessi un bot È comunque di non avere Il controllo Il pieno controllo Della situazione Assolutamente sì E io Come ti dicevo Proprio fatto Ho accennato Che faccio sempre Backtest dal 2018 All'anno corrente Sei mesi in demo E sei mesi in real Io durante tutto questo periodo Che cos'è che faccio? Innanzitutto tu quando vai a fare Backtest su MetaTrader 5 Hai la possibilità di visualizzare Il software Quindi come si è comportato Come non si è comportato E tutto Io vado a fare una cosa Che si chiama Recovery plan Per ogni strategia In cosa consiste Questo recovery plan? Allora Innanzitutto come dicevamo Io utilizzo sempre Lo stop loss Quindi su ogni strategia Cosa significa Può essere del 30% Può essere del 20% Può essere del 20% In base alla strategia Io mi vado a dare Un mio rischio A parte rispetto All'operatività Che magari lavorano Stop loss e take profit Lì è un altro discorso Io che cos'è che vado a fare? So che magari Facendo il backtest Per questo periodo storico Io ho un drawdown massimo Avuto senza compound Che io vado a tenere in considerazione Quello senza compound Del 19% Io dico Mi vado a prendere Uno stop loss Del 30% Lo setto Perché questo 30% Innanzitutto Mi vado a fare Un Monte Carlo test Il Monte Carlo test Che cos'è che ti fa vedere? I vari scenari maggiori Come si è comportato Il software E eccetera eccetera Quindi vado a vedere Quei dati Come si sono comportati E vado a fare Un po' Una sorta di media Ok Supponiamo che io Ho un drawdown massimo Del 20% Trovo un valore ottimale Nel 30% Ok Quindi io so che Dal 20 al 30 Io ho un altro 10% Di margine Ovviamente Quel 30% Io l'ho detto Per fare un esempio Può essere del 25% Può essere del 23% Può essere del 28% Per semplicità Ho detto il 30% Che cos'è che succede? Io so Luigi Che hai un 10% Di margine Ma che cos'è che succede? Se il mercato Se il software Dovesse superare Quel 20% Di drawdown Significa che tu Stai perdendo Legge statistico Non stai rispettando Più quella statistica E questo è un problema Perché tutti i dati passati Non si stanno rispecchiando più E lì Non è il controllo Perché tu realmente Non sai il software Come si comporta Io quindi Che cosa che vado a fare? Vado a creare Recovery plan Vado a vedere il bot Durante il backtest Quando è andato in difficoltà In che scenario È andato in difficoltà Come si è comportato Come erano posizionati Gli indicatori Nel caso in cui Utilizzassi gli indicatori Come erano i volumi Come era il ciclo Come era la stagione Come era il criterio operativo Che io andavo ad utilizzare E in base a quello Io mi annoto tutto Sul Notion sempre Scrivo sul Notion Dico Il giorno X Quindi mi annoto il mese C'erano 8 volumi C'era questo ciclo C'era questo Ok Il mercato è iniziato A sbilanciare In che modo Il mercato è iniziato A sbilanciare Magari Fase laterale Rialzo Fase laterale Rialzo Oppure movimento unidirezionale Su che time frame È iniziato a sbilanciare Che time frame Tutto quello che è successo Quando il software È andato in difficoltà Perché faccio ciò Perché poi io successivamente Mi metto E dico Ottimo Arrivato a questo punto Io posso prendere E posso Crearmi un sistema Di recupero Nel caso in cui Il software Dovesse andare in difficoltà Che cosa che faccio Prendo magari Dal 2008 2005 In base a Qua Magari ho dei dati Buoni dal 2008 Mercati dove ho dei dati Buoni dal 2003 Dal 2005 2010 Dipende Io che cosa che faccio Vado a prendere Il software Quando non ho utilizzato Quei dati Per poter fare backtest Quindi dei dati Completamente diversi Inizio a lavorarci Inizio a dire In base a questo scenario Qui che ho visto Il software In questo momento qui È andato in difficoltà Perfetto Fammi vedere Dico Al software Di aprire le operazioni Nel 2010 Il 9 settembre Software Il 9 settembre Nel passato Nel 2018 C'è stata una situazione simile Aprimi queste operazioni Io prendo Intervengo in manuale All'interno del backtest Per Diciamo Testare Il mio intervento manuale All'interno del conto Così laddove dovesse succedere La situazione spiacevole All'interno del mercato So come operare E non lascio nulla a caso E quindi la paura Finisce Però sì È una grandissima paura Che Con il tempo Uno cerca sempre di Conseguibilizzare Di Abbassare sempre di più Lo scenario peggiore Che puoi andare ad incontrare Allora tu comunque In questo momento Lavori anche con dei fondi Di investimento Innanzitutto ti faccio i complimenti Perché a 20 anni Comunque stai facendo Una cosa molto importante E come Come sei arrivato A lavorare con loro Cosa fai E soprattutto Parlami un po' di questo Allora sì Innanzitutto grazie E allora Tutto è nato Dopo la mia esperienza Sulle cripto Dopo aver avuto L'esperienza sulle cripto Lì ho iniziato Ad essere contattato Tramite mail Semplicemente Magari da qualche Consulente finanziario Magari da qualche fondo Che magari vedevano L'operatività sulle criptovalute Volevano allocare Una parte del proprio capitale All'interno di questo mercato Ovviamente non tutto Perché come tutti gli investimenti Bisogna diversificare Specialmente in quelle Entità Diciamo in entità grandi E quindi loro volevano Investire in cripto Però ti devo essere sincero Io quando facevo Training sulle criptovalute Avevo circa 17 anni Quindi magari utilizzavo Qualche exchange In DeFi Dove non servivano i documenti E eccetera eccetera No purtroppo Io Questo qui è il mio lavoro Quindi non è che faccio altro E tutto E vorrei con il tempo Costruirmi un nome Costruire qualcosa di grande All'interno di questo settore È la mia passione Mi piace quello che faccio Sono veramente entusiasta Di tutto quello che Sto cercando di fare Quindi vorrei coltivarlo nel tempo E quindi all'epoca Non me la sentivo Di dare una strategia Sulle criptovalute A un'entità così grande Perché comunque Tanto per far capire Tu avevi diciamo Una sorta di profilo Su BitGet Ed è riuscito in classifica Come primo in classifica Le persone mi copiavano Sopra BitGet E quindi da là Avevo dei risultati Comunque importanti Perché comunque Le criptovalute Non è come il Forex Magari Per fare un 1% Cioè Per fare nel Forex Un movimento dell'1% Non un gain dell'1% Un movimento dell'1% E tantissimo Fra virgolette Rispetto alle cripto Che magari Stiamo parlando Esattamente E quindi capisci bene Che lì le percentuali Che si possono fare Specialmente in bull market Con i dati passati Basta che hai una strategia Di trend following Cioè Vai in uno spettacolo Fai delle percentuali assurde Però purtroppo Come dicevo prima Non ho abbastanza dati Per sviluppare una strategia Per darle a loro E quindi tu Entri in contatto Con queste entità Poi mi hanno iniziato A contattare magari Altre persone Sopra a LinkedIn MyForexBook Viene utilizzato tantissimo Tramite il sito web Quello che fanno Magari si presentano Si fanno degli incontri Tramite Meet Oppure di persona Dipende dall'entità E iniziamo Fra virgolette A parlare Ovviamente non è che Tu hai un fondo di investimento E gli puoi far vedere Un MyForexBook O meglio Loro lo cercano Perché ci sono alcuni Che ti trovano Su MyForexBook Perché tu Puoi filtrare Puoi dire Voglio la strategia Con un anno di storico Eccetera eccetera Loro ti scrivono E tu gli devi far vedere Tutti quanti i dati Della strategia Innanzitutto Il report reale Perché purtroppo Come ben sai Ci sono delle persone Che comunque falsificano Il MyForexBook Falsificano il MetaTrader E quindi così E loro vogliono questo file Dove tu ci devi mandare Tutto quanto Innanzitutto Devi avere questo storico Certificato Io adesso sto cercando Con il broker Con cui lo collaboro Di farmi creare Una sorta di certificato Dove mi vanno ad attestare Che lo storico Dei software che utilizzo Non è contraffatto Ok Poi successivamente Quello che si fa Si firma una sorta di contratto Un Solitamente un contratto Di non divulgazione Prenderla molto semplice Dove tu appunto Non andrai a comunicare Con i clienti del fondo Alcuni non vogliono dire Pubblicamente che lavorano Altri magari Non vogliono dire Le cifre che gestiscono Che strategia utilizzano Alcuni vogliono Delle strategie In maniera esclusiva Vogliono un grado di rischio Esclusivo Eccetera eccetera Poi successivamente Tu vai a fare l'accordo Dove dici Ok Lavoriamo con voi E sotto quale giurisdizione Anche quella là È molto importante Perché io ad oggi Non faccio gestione di capitale In alcun modo Tutto quello che faccio È semplicemente Io ho il mio conto All'interno di questo mio conto Tramite un broker Regolamentato Registrato Consop Eccetera eccetera Le operazioni Che io andrò ad aprire All'interno del mio conto Verranno copiate All'interno dei conti Dei clienti Questo rende ciò Molto snello A livello burocratico Perché appunto Non si tratta Di gestione di capitali Perché appunto Viene fatto Fuori dall'Unione Europea E questo è molto importante E quindi tu quello che fai Semplicemente Vai a firmare dei contratti Con il fondo Con il consulente finanziario Con l'edge fund Eccetera eccetera Dove appunto Garanzie per te utente Che appunto vai ad offrire Il servizio Fra tante virgolette Ma anche per il fondo Perché tu immagina Io sono in contatto Con dei clienti Del fondo di investimento Che magari vogliono Delle zoom Delle cene Eccetera eccetera Tu immagina di gestirmene In maniera privata Quindi tu magari A un fondo Mi porti 10 clienti O questi 10 clienti Li contatto in privato O me li faccio Non è corretto Nei confronti del fondo Pure magari io ti dico I certi fondi Guarda hai un rischio Del 20% Ti vado a far rischiare Del 50% Ovviamente entrambe le parti Devono avere delle garanzie Fra tante virgolette E tu le vai a schedulare Le vai a dire Poi ci sono alcuni Che ti vorrebbero Sotto contratto In maniera esclusiva Però io non lavoro In quel moto Semplicemente perché Come ti dicevo Vorrei scalare Questo settore E è una bella esperienza Perché comunque Se non avessi fatto trading Io non avrei mai Avuto la possibilità Di confrontarmi Con un consulente finanziario Con un proprietario Di un hedge fund Viaggiare Conoscere nuove opportunità Nuovi metodi di pensiero Tu andassi in Svizzera Giusto mi ricordo Mi mandassi la foto A parlare Ho dei fondi di investimento In Svizzera Magari alcuni negli Emirati Altri magari a Monaco UK Ce ne sono alcuni in giro In Grecia anche O proprio ultimamente Ci sono Che comunque Sono belle realtà Che ti permettono Di crescere A livello professionale E ti permettono comunque Di scalare questo business Poi io non sono il tipo Che mi piace di dire Ci sono Totto fondi Mi devono allogare Totto fondi No A me già l'esperienza Di poter comunicare Con una persona del genere Per me già è tantissimo Capito E a livello di capitali Puoi dirlo Quanto è più o meno Il capitale Cioè I capitali più o meno Che sono allacciati Alla tua strategia Allora Nello specifico Stiamo su un vago Su più di 10 milioni All'incirca 10 milioni Ad oggi All'incirca Poi però Tu quando vai a fare un Diciamo vai a Dare un contratto Con un hedge fund Loro che cosa è che fanno Tu non è che Hanno magari 10 milioni di allocarti 100 milioni di allocarti Che cosa è che fanno Non è che te li mettono Subito all'interno del conto È molto più Lungo il processo Quindi magari Innanzitutto Ti partono dal Classico conto demo Tu innanzitutto Devi andare a dire In questo modo qui Dove vogliamo lavorare Vogliamo lavorare Sul broker A cui io faccio riferimento Oppure Ci sono alcuni fondi Che magari dicono No io voglio lavorare Per forza Con il liquidity provider Direttamente Perché Si fa in un discorso Ancora più ampio Il discorso della differenza Fra broker e market maker E CN È un discorso molto ampio E Uno dice Guarda io lavoro Con questo broker qui So che è un broker E CN Quindi non hai conflitto Di interesse So che ha le migliori Condizioni di trading All'interno del mercato So che è regolamentato Fondi segregati Facci un pensiero Lui dice No io voglio Voglio lavorare Su quest'altro broker Voglio lavorare Con questo liquidity provider Qui Va benissimo Tu prendi Ti inizi a far mandare Qualche dato Per quanto riguarda Il broker Equity provider Eccetera eccetera E ovviamente Devi settare La strategia In base a quelle Condizioni di trading Se tu andassi a prendere Magari Una media mobile Sul broker 1 E poi Andassi a settare Sul broker 2 Vedi che il prezzo Il livello di prezzo Sarà completamente diverso Perché gli spread Di swap Comunque vanno a influenzare Questi dati qui Esattamente E quindi tu Non avrai mai Lo stesso edge statistico E quindi tu Prima di settare Il software Sopra a un altro broker Devi andare a sistemare La strategia Poi una cosa Molto importante Che vai a fare Ti inizi a rendere conto Realmente dici Cavolo questo liquidity provider È molto interessante Sta facendo la scelta giusta Questo fondo Oppure Sta performando di meno Fammi ci vedere Con questo broker qui Ok E quindi tu inizi a dimostrare Il tuo broker di fiducia Glielo inizi a dare Tutto Sta lì molto la chiave Anche del broker A cui fai riferimento Allora ti partono Con un conto demo Ti dicono Guarda Luigi Ti tiriamo Un conto da 100k demo Lavoraci Ce l'hai in test Due mesi Tre mesi Un mese Una settimana Dipende da loro Fammi vedere Come lavora la strategia Anche lì è molto ampio Il discorso Per cui un trader Si può definire profittevole Oppure no Quindi anche lì È molto complesso Il discorso Allora quello che fanno Semplicemente è test Con piano scalabile Ora non sto dicendo Che tutti quanti I fondi di investimento Lavorano in questo modo qua Questa qua Quella che è la mia esperienza Quindi io quello che faccio Sono semplicemente Dei piani scalabili Quindi oggi inizi Con 100k reali Fra un mese Ti ne riposidiamo Mezzo milione Successivamente Un milione E fino a magari Dei piani scalabili Fino a uno o due anni Dove tu Dove non dovessi portare I risultati Attesi dal bro Scusami Dalla strategia E ora possono decidere Se continuare La collaborazione con te Oppure comunque Levarla E questa è un po' Quella della mia esperienza E a livello poi Di percentuali Cioè di guadagno No ok Comunque parliamo Cioè come funziona Cioè quali sono tipo I tuoi guadagni Da trader Perché poi Un'altra cosa Magari uno dice Per vivere di questo Devi avere per forza Devi per forza Capitalizzarti Cioè però tu sei anche La dimostrazione Che comunque Non è che sei milionario Cioè tu sei il ragazzo Normale alla fine Cioè così ti capitalizzi Sfruttando la leva Diciamo Allora Sai che cos'è Siamo sempre lì Il solito discorso Nel caso in cui Quando tu offri un servizio Quindi come può essere Questo qui Come può essere Un social trading E tutto Tu devi andare a considerare Il rischio imprenditoriale Che tu hai Ok Quindi tu dici Ok Ho 100k in banca Ho un milione in banca Ho 10 milioni in banca Li metto all'interno Di un software Tu devi considerare Che innanzitutto Devi pensare A quanto tempo Hai impiegato Per sviluppare quel software Quindi anche lì Non stai investendo soldi Ma stai investendo tempo Successivamente Un'altra cosa Che devi andare a considerare Prendo uno stop loss Sto perdendo tot capitale Successivamente Tu con il copy trading Con il social trading E quello con cui ho iniziato Per me è stato un vantaggio assurdo Perché è stato un vantaggio assurdo Perché io all'epoca Ovviamente non avevo soldi Di poter mettere un milione Sopra un conto Capito Tu non lo puoi fare Però potenzialmente Puoi sfruttare la leva Degli altri investitori E questo è molto interessante Anche lì è etico Perché se il cliente guadagna Tu guadagni Se il cliente è perdita Tu non guadagni Quindi sei per forza costretto A fra virgolette Portare a casa il risultato Anche lì Non bisogna fare Tutto al buon faccio Perché magari ci sono Dei servizi di social trading Dove lavorano magari in PNL Quindi ti accordi con il broker Quello che succede Dici Io porto Luca All'interno del broker X Gli faccio depositare un milione Il giorno dopo Gli attacco un software Ti faccio bruciare Tutto quanto il conto Io e te broker Facciamo 50 e 50 Allora mi sono fatto Mezzo milione pulito Purtroppo è brutto A livello etico Ma ci sono persone Che lavorano così Ed è legale E poi penso là Con i broker scam Oppure si fanno queste cose Sì assolutamente Basta che il broker Market maker Non sto dicendo Che tutti i broker market maker Facciano questo Però se il broker market maker È molto probabile Che succeda questo Perché appunto Facendoti da controparte I soldi non escono mai Dal broker Esattamente Il broker X Invece ti fa da intermediario Fratelli liquidi provider Quindi lui ha tutti gli interessi Di metterti le migliori condizioni Di trading E tradare Questa è una grandissima tutela Cioè quindi Pure per far passare il messaggio Perché io penso Che il copy trading Alla fine non è una truffa Cioè perché Tu senti parlare Con questi social Che il copy trading È uno scam Ok Non è così Perché comunque L'interesse del trader In questo caso È guadagnare le commissioni E far tradare alle persone Ok Perché comunque ci guadagna Se guadagni tu Guadagno io Però il fatto è che Secondo me La maggior parte delle persone Perdono soldi Anche i trader Che offrono la strategia E quindi poi È questo Che ne pensi tu? Non è uno scam Ma semplicemente Il problema del social trading È che è troppo accessibile Ah poi Un'altra cosa Penso anche che Comunque l'utente Che si allaccia Non ha neanche La consapevolezza Del rischio Quindi magari Aumenta il lotto Fa queste cose Assolutamente sì Il problema del social trading È che è troppo accessibile Cioè io conosco magari Dei miei Fra virgolette Colleghi Chiamiamoli in questo modo qua Che magari loro hanno Dei fondi di investimento Il fondo di investimento Ovviamente non lavora Con il pubblico retail Quindi magari con l'investitore Da mille Diecimila euro Eccetera eccetera Che magari si aprono Dei social trading Su vari broker Per aprirsi anche Al pubblico retail Perché comunque anche lì Si possono raccogliere Dei capitali Diciamo importanti Quello mica è uno scam Quello ha un fondo di investimento Che si attacca al social trading Cavolo Però il problema del social trading È che è troppo aperto Magari io Luigi ti faccio un esempio Ho una strategia Faccio l'esempio su di me Ho una strategia Che mi lavora bene Un mese E io dico Ah sono un trader La metto sopra il social trading Il mese dopo Mi brucia E lì ho fatto perdere Di fiducia all'investitore Io anche lì Ho iniziato abbastanza tardi All'interno di questo settore Io sono un amante Dell'analisi dei dati Come abbiamo detto prima E quindi una cosa Che faccio sempre È l'analisi dei competitor Quindi ho quello Che mi sono andato a dire Cavolo ma Io ho un esempio Come fai a valutare Una strategia Vedendo solamente Il my forex book Cioè io so come si è comportata Nel 2018 Ma tu non lo sai Nel 2020 Io so come si è comportata Tu non lo sai E quindi io Quello che cerco di fare Sempre sulle mie strategie È quello di fornire Quanto più materiale possibile All'investitore Per poter valutare In maniera soggettiva E oggettiva È la strategia Non dire Non funziona così Consiglio di un amico Sono L'amico dell'amico Sono soldi Dietro a ogni soldo C'è sacrificio Diciamo di lavoro Sudore Studi Cioè Bisogna trattare i soldi Con il giusto rispetto E quindi E mo comunque Alla fine Avendo a che fare Con sti capitali importanti No Non ti senti Non c'hai l'ansia Cioè comunque Parliamo di tanti soldi Cioè poi Anche un'altra cosa Quando supponiamo Che tipo Le tue strategie Performano male Oppure bruciano Tutto il conto Cioè che succede Cioè tu Poiché stai lavorando Con diciamo Questo fondo Devi dargli qualcosa Allora io innanzitutto Quello che devo fare Allora A livello di ansia C'è quella preoccupazione Fra virgolette Ma come Se l'avessi Sul mio conto Quindi c'è La preoccupazione Da trader generale Ok E lì c'è sempre Però io Quello che dico Ho un edge Statistico Ho una probabilità Che l'operazione Vada a take profit Ho una probabilità Che l'operazione Vada a stop loss Sono cosciente Del rischio Io quello che faccio Costantemente Prima di prendere Qualsiasi tipologia Di collaborazione È sempre Parata dei rischi Io Cioè mi soffermo Più sui rischi Che sull'eventuale guadagno Perché un cliente Magari che è nuovo All'interno di questo settore Non può conoscere Il trading Quindi magari Si va a prendere la fomo Mette magari Dei moltiplicatori Sempre per la voglia Di guadagnare troppo Io quindi Quello che voglio sempre È che il cliente Abba ben chiari rischi Una volta che il cliente Abba ben chiari rischi Può fare quello che vuole Ovviamente con quelli Che io ho a che fare Poi con quelli che non Ho a che fare Io non posso farci niente Capito Non ho Quindi quando si parla Di hedge fund Con fondi di investimento Cerco sempre di dare Quanto più materiale possibile Per farglielo valutare Se lui ritiene opportuno Di partire con la strategia Significa che ha fatto Le sue considerazioni Come le ho fatte io Se per entrambe le persone Il bot è valido Sono più che felice Di collaborare con te Se il bot non ti piace Io gli ho dato tutto il materiale Per poterlo valutare Per quanto riguarda Lo stop loss Anche lì È mio interesse Come è loro interesse Tutelare il conto Per questo si fanno Quei determinati accordi Ok Come ti dicevo Io non posso permettere Di dire Vicino a un hedge fund Ti rischio il 30% E loro prendono E gli brucio il conto Cioè non può succedere Una cosa del genere Nel caso in cui Dovesse succedere Tu vai a far Metti una clausola All'interno del contratto Dove dici Il 100% del tuo capitale Lo puoi perdere Solamente per questo scenario Questo scenario Questo scenario Problemi con il broker Puoi perdere questo Puoi avere problemi Con le WPS scelte da loro Perché ci sono delle persone Dove dicono Io non voglio Non mi fido delle tue WPS Va bene Me lo dovete dare voi Però io non vi posso Garantire la massima qualità Oppure si va a fare Un accordo stesso Con il fornitore Delle WPS Dove si dice Guarda Io sto andando a fare Queste gestioni Io mi affido a te Però sappi Che nel caso in cui Mi dovessi far crashare Le WPS Tu mi devi risarcire Mi devi tutelare In qualche modo E tu con l'edge fund Con il notaio Tra virgolette Poi non si tratta Proprio di notaio Vai a stabilire Questa tipologia Di accordo E prendi E lì Sei tutelato Tutto questo punto di vista Qui Il massimo sarebbe Quello di mettere Non utilizzare Dei software esterni Ma mettere Degli stop loss In macchina Quindi tu all'interno Dell'operazione Come è il take profit Hai anche lo stop loss E' una cosa Per cui sto lavorando E questo dovrebbe abbassare Di molto La probabilità Che il software Non funzioni Perché lì L'unico rischio Che hai E' che il broker Non ti chiuda l'operazione E lì ovviamente Io sono tutelato Perché lì E' il broker Che fra virgolette Non ha rispettato L'accordo Che ha preso Con il fondo E quindi Se nei mille casi Esempio Prendi Il botto Non va bene Supponiamo che non va bene Ok E prendi uno stop Del 50% Del capitale E saltano via 5 milioni Che succede a te? A me succede Che io non guadagno Fino a quando Non recupero Totalmente La perdita Però facendo gli accordi Comunque con l'oro Non è che Diciamo Ti chiedono 5 milioni No 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 E altrimenti Non converrebbe a me A livello imprenditoriale Di fare questo Converrebbe Prendo 5 milioni E li metto Sopra il conto E ci lavoro Capito? Io faccio questo Semplicemente perché Loro hanno questi fondi Io ho lo strumento Per poterli Far lavorare Far lavorare E quindi si crea Questa tipologia Di accordo qua Però no Altrimenti Non sono Non collaboro Magari dicono Metti le proprietà A garanzia Devi mettere a garanzia Il cane Non converrebbe Capito? Non converrebbe Io faccio questo Semplicemente perché Io ho il rischio Imprenditoriale Di mettere il mio nome E il mio tempo Che ho sviluppato Tu metti il tuo rischio Imprenditoriale E guadagni in maniera passiva E non ti freddi Tutto quanto Lo sbatti Che c'è dietro Nella gestione Gli aggiornamenti Eccetera eccetera Io una cosa che ho visto Tipo nei campionati Di trading Ritornando anche Al discorso Se potrebbe convenire Comunque utilizzare Gli expert E imparare A programmarli Che i campionati Di trading Persone come Andrea Unger Cioè comunque Fanno risultati Che fanno paura Praticamente Assolutamente Mi piacerebbe In futuro Partecipare A una competizione Di trading Sia discrezionale Che a livello Sistematico Non è un qualcosa Che c'ho nel breve Perché nel breve Sto ancora costruendo Quindi non avrei Il tempo materiale Per potermici dedicare Al 100% Però in futuro Mi piacerebbe molto Certo Lì penso Che è una tipologia Di trading Completamente diverso Io non penso Che loro facciano Questi percentuali Costantemente All'interno Nel loro portafoglio Perché è un po' Matematico È una forbice Fra virgolette Ovvero Quanto ti esponi Quanto guadagni E' normale Che tu più ti esponi Più guadagni Potenzialmente Lì è una competizione Quindi tu devi portare A casa il risultato Perché poi non c'è La persona che rispetta Il risk management Il money management Lì devi arrivare primo Perché fa marketing Fa tutto E quindi ci sta Questo non significa Che non siano persone competenti Anzi assolutamente Sono dei colossi E da ammirare solamente Con tutto che si espongono Hanno ottenuto questi risultati Quindi assolutamente sì È una scelta E devi portare E penso che là pure A livello di contatti Di fondi di investimento Lì pure Sì conosco un ragazzo Che è partecipato A Il campionato di trading Ora non ricordo Se è sistematico Oppure Discrezionale E lui non è arrivato prima È arrivato dopo quarto O terzo Non mi ricordo E lì ha avuto Un sacco di contatti Tantissimi contatti Però anche lì Cioè Cosa è che succede? Che tu magari Hai la botta di fortuna Arriva in classifica Poi però magari Non è il caso Di questo ragazzo Tipo Mi metto io Con un bot Martingala Scaricato su Fiverr Va tipo Il mille per Succede che tu magari Hai questo risultato Arrivi primo in classifica Poi magari Vieni contattato Da questi fondi Tu non li puoi gestire Ma dentro tipo Al MyForexBook No? C'è tipo La possibilità Di vedere Se fai sul MyForexBook Scrivi appunto Luigi Mattina Il mio nome Vedi tutte quante Le mie strategie E lì ci sono alcuni Fondi Ci sono alcuni Investitori privati Col saldo Tipo magari Qualcuno Sì sì col saldo Alcuni sono in dollari Altri in CHF Altri in euro Sì Oppure Non tutti ce l'ho Sul mio conto Perché magari Ci sono alcuni Che non vogliono mostrare Perché a me è tutto Marketing Fra virgolette Quindi a me Conviene tantissimo Però non tutti Lo vogliono tenere pubblico Oppure non tutti Dicono sì Tienilo all'interno Nel tuo Se li vengono nel loro Però sì Sul mio MyForexBook Ci sono Ok Comunque penso che Pure per quanto riguarda La cosa di Venire contattato Da un fondo di investimento No È anche una questione Di contatti Di network Che si crea una persona Non è che Dall'oggi a domani Magari io ho una strategia Cioè che ne pensi Tu In base alla tua esperienza pure Allora Luca Io per quella Che è la mia esperienza Io La mia più grande fortuna È il passaparola È il network Cioè Anche Il Il semplice Il semplice Social trading Perché È cresciuto tanto Cioè io non è che Spendo soldi in ads Sponsorizzati Io ho un profilo Instagram Che ho 400 Non c'ho neanche L'immagine di profilo Cioè capisci Quindi non è il Il parlare sui social A me quello che interessa È crescere in organico Il cliente è soddisfatto Tu sei soddisfatto Che utilizzi il mio servizio Domani ne parli Con un tuo amico Guarda Lo sto provando Provalo anche tu Gli fai vedere i dati Lo fai tu Stasera Andiamo a mangiare Una pizza Andiamo in una pizzeria Ti piace il ristorante Domani ne parli Un amico Oh lo sai Sono stato molto bene In questa pizzeria Provala Quello è un cliente in più Anche perché Io ti faccio un esempio Una volta Bitget Mi invitò ad un evento Su una barca E comunque là C'era una persona Che aveva un fondo Di investimento Adesso se io avessi avuto Una strategia Oppure c'eri tu Al posto mio Potevi fargli vedere La tua strategia E magari Ci usciva una collaborazione Quindi dipende comunque Da contatti e network Va bene Luigi Io ti ringrazio Per questa cosa Comunque l'argomento Expert Advisor È un argomento Che non è tanto trattato Alla fine in Italia Si parla tanto Di trading discrezionale Però penso che Comunque è un argomento Affascinante E ti ringrazio Per questa intervista Magari se un giorno Realizzeremo qualche altro contenuto Più che volenti Mi ha fatto un sacco di piacere Va bene Per questa intervista